Direttore, arrivano denunce di numerosi furti di auto all'interno del parcheggio dei riuniti, che sta succedendo anche in questo caso? Sì, è vero, oggi è stata riportata questa notizia, c'è sempre stato purtroppo un'incidenza di furti, non dico quotidiana, ma frequente, non sono nel parcheggio, sono all'interno addirittura dell'ospedale, chiaramente abbiamo un dispositivo di sorveglianza adeguato, il massimo possibile e ora riusciremo, a seguito di una controversa che si conclude a fine anno con la giudicazione della gara, a dispiegare un sistema di videosorveglianza capillarissimo, a quel punto con un miglioramento della sorveglianza e con il dispiegamento della videosorveglianza, con control room, quindi con immediato rilievo, penso che questo fenomeno possa essere contenuto, però avevo annuncio che lunedì, vista anche la notizia di stampa, chiederò un appuntamento al prefetto per un'eventuale sinergia ulteriore, è chiaro che ci sono centinaia di macchine che vengono parcheggiate, quindi potrebbe essere un caso di dare un occhio particolare a quest'area, ma ripeto purtroppo all'interno dell'ospedale i parcheggi sono abbastanza controllati, ancorché siano parcheggi liberi.